Ilaria, la pubblicità occulta per modo di dire ad Apple e c'è un Apple, se prendo un altro computer che va arrabbiato lo stesso c'è l'Apple, va bene, c'è l'Apple che ci posso fare? questo costante riferimento c'è la pubblicità occulta se vi metto sopra un... se vi trappo la mela non è che... vi trappo la mela nel senso metaforico è evidente che non è che cambia... che cambia chissà che cosa sempre Apple è e... tratevi una tranquillata un po' di calma, una tranquillizzata ragazzi uno c'è un computer e lo usa non è che può subito immaginare ah, schiavo delle lobby e dai, e dai, senti come parlo